ciao a tutti e bentornati nella mia stanza oggi parliamo di un gioco di ruolo svedese pubblicato in italiano dalla spesa orange 42 ex gg studio nel 2016 bellissimo volume cartonato che io ho potuto comprare solo in pdf perché dice che non si trova non si trova più e poi con i problemi che ci sono ora di corriere non so quando mi sarebbe potuto arrivare un bel gioco di ruolo di 274 pagine 60 euro nella sua edizione cartacea di matthias johnson e matthias lilia e sto parlando di simbarum allora simbarum è un gioco di ruolo dark fantasy ambientato in un mondo in un continente dove c'è una enorme foresta la foresta del davocar un regno umano che il regno di ambria e dove i giocatori esploreranno questa enorme foresta che è grande per farvi capire la foresta del davocar è grande quanto un continente i giocatori partiranno tutti dalla stessa città eccetera eccetera quindi questa è la prima cosa da capire è un gioco di ruolo dark fantasy dove l'esplorazione di del davocar sarà fondamentale per l'avventura per lo svolgimento delle avventure come si presenta al manuale il manuale si presenta suddiviso in tre libri libro 1 il mondo di simbarum libro 2 la guida del giocatore libro 3 la guida del game master e a concludere di tutto una avventura dal titolo la terra promessa ma procediamo con ordine allora il libro 1 il mondo di simbarum parte da pagina 13 appare finisce a pagina 72 qui c'è la descrizione del regno di ambria scusate la descrizione del regno di ambria della foresta del davocar e dei bassopiani ad ovest della foresta è descritta la chiesa principale la chiesa del dio sole prios e lordo magica lordo magica che è il conclave della magia allora qui tante recensioni ho sentito ho letto visto hanno storto un po la bocca perché hanno detto che il davocar non è descritto con dovizia di particolari perché c'è il rischio che nelle espansioni successive questo discorso venga scritto qualcosa che corso con quello che il gm ha pensato e allora devo dirvi che in realtà a me il fatto che il davocar non venga descritto nei minimi dettagli è una cosa che ha fatto impazzire perché mentre mentre leggevo il manuale mentre parlavo di questa leggevo di questa foresta di cui si conosce soltanto la parte più esterna più vicina allo al alla civiltà dove appunto le persone possono andare a fare legna possono andare a caccia quindi nessuno sa cosa c'è nel cuore del davocar a me questa cosa ha fatto impazzire perché è come se ti avessero dato un continente e no mi è venuta in mente il la frase che monte cook quindi non l'ultimo dei biscari nel mondo del gioco di ruolo monte cook dice quando parla di nome nera quando parla del nono mondo di nome nera dice non mondo è talmente grande che c'è posto per tutti quindi il davocar è talmente grande perché vi ricordo è grande quanto un continente è la stessa cosa che uno deve pensare quando pensa all'australia l'australia è vero che è grande è che può sembrare un'isola ma uno deve pensare che è grande quanto gli stati uniti per dimensioni se non di più quindi è veramente avere un continente a tua disposizione dove la mappa ti indica alcuni avamposti alcuni punti alcuni laghi alcuni fiumi questo te lo descrive te lo indica la mappa ma in realtà te master sei libero di costruirti il tuo davocar potresti master mettere su tre avventure diverse con tre gruppi diversi e tre davocar diversi è una cosa che a me è piaciuto veramente tanto l'idea di questa di questa cosa ma ad altri no che quando io ho cominciato a giocare di ruolo non avevo a disposizione manuali atlanti chissà chi nella scatola rossa l'ambientazione di mistara non è nemmeno accennata se ne comincio a parlare nell'expert quindi a un certo punto i master si dovevano trovare a fare di necessità virtù o compravi le avventure che ti davano un'infarenatura o altrimenti eri costretto a fare di necessità virtù quindi ecco come questa cosa qui che il davocar venga descritto sommariamente perché se ci pensate da 13 a 72 sono 50 58 pagine 59 pagine 59 pagine ti descrivono un regno ambria dove dove ti indicano anche inderos che è la capitale e c'è tutta la storia di come la regina arrivata al potere è descritto veramente bene poi sono descritti i bassopiani dove vivono i barbari una vedremo classe giocante dei giocatori possono scegliere e poi ti descrivo appunto questa enorme foresta i barbari sono descritti molto bene che sono scritti usi e costumi veramente una cosa bella poi descritta la chiesa del dio sole prios che appunto l'unico culto riconosciuto ad ambria e lordo magica che è questa grande scuola di magia questa accademia di magia che racchiude in sé tutti i maghi e tutti gli usufruitori di magia quindi questo è quello che c'è nel primo libro nel primo libro viene il davocar viene descritto e viene descritto con le parole di malliano malliano è un maestro dell'ordo magica che però è un devoto del culto del dio sole del dio prios del dio sole prios e descrive il davocar la cosa ecco un'altra cosa bella e lo descrive per sommi capi e lo descrive in due parti dice che il tavo car è come l'animo umano è diviso in davocar chiaro e in davocar scuro il davocar chiaro e il chiaro e scuro è dato dalla facilità che ha il sole di entrare all'interno del sottobosco all'interno del bosco all'interno della foresta quindi il davocar è chiaro e come vi ho detto è quello più vicino all'esterno ed è descritto come una terra di sogno come alberi colline veramente una cosa bella il davocar scuro è scuro come l'animo umano quindi ecco l'idea di farlo descrivere da malliano che ho un maestro dell'or scusate con maestro dell'ordo magica con anche devoto al dio sole prios e qualche malalingua dell'ordo magica dice che malliano sia stato anche aiutato ai sacerdoti di prios a scriverlo ecco una cosa che mi è piaciuta tantissimo la parte 1 questo mondo di simbolo descritto in questa maniera è veramente una cosa piacevole da leggere ho apprezzato il fatto che ti abbiano messo l'ambientazione subito l'ambientazione lì è descritta è tutta lì il resto le altre due parti lo vedremo l'ambiente l'ambientazione è ridotta al minimo o in certi punti assente perché appunto è tutto in queste 50 pagine in queste 50 60 pagine però ecco immaginatevi master avete il davocar a vostra disposizione avete un continente da fare come volete ovviamente punti fermi ci sono i laghi alcune alcune rovine già descritti dai precedenti avventurieri quindi quelle ci sono ed è utile che ci siano perché danno un punto di riferimento al master per scrivere la propria avventura oltre a questa descrizione è descritto forte cardo forte cardo è l'equivalente io quando ho letto forte cardo mi è venuta in mente la soglia di karamekos di di andy scatola rossa cioè forte cardo è la città da cui partono il 90 per cento delle esplorazioni di del davocar è un forte che si trova in prossimità di ambria quindi nell'impero di ambria ma è al limitare del bosco e di lì partono le spedizioni però la cosa piacevole che le spedizioni non possono partire in maniera libera in maniera autonoma devono fare una lettera devono prendere una lettera del gruppo che dovranno pagare per l'esplorazione di per l'esplorazione del del davocar dire quanto hanno intenzione stare il motivo ecco questa è una cosa che mi è piaciuta molto l'idea che sia regolarizzata all'esplorazione perché il davocar è un patrimonio è il patrimonio perché dovete immaginare qui viene fuori di nuovo la mia formazione da storico che anche nel medioevo l'essere umano l'uomo medievale aveva un rapporto altalenante con il bosco perché dal bosco l'uomo medievale traeva il nutrimento le ghiande la cacciagione le castagne quello che gli poteva servire ne traeva il calore perché quegli alberi abbatteva gli alberi faceva il legname per costruire le case o per potersi scaldare quindi da una parte ne sentiva l'utilità dall'altra ne aveva paura immaginatevi il uno dei più grandi poemi della letteratura italiana comincio appunto lasciando perdere la parte metaforica mi ritrova in una selva oscura quindi come vedete c'è sempre questa dicotomia per il bosco un certo libro in cui si parla di un anello che viene deve essere distrutto anche lì se ci pensate il nano non entra nel bosco perché sa che c'è una strega però poi nel bosco è il momento in cui il gruppo si rianima quindi sempre questa cosa qui e quindi il davokar è quello il davokar è una figura viva all'interno del mondo di simbarum però ti dà la libertà di fare come ti pare nei limiti della decenza ecco non ci potete far mettere una nave spaziale perché cozzerebbe con l'ambientazione è descritta l'unità monetaria il tallero e poi c'è la divisione in tallero scellini e orteghi credo che si pronunci così ci vorranno 10 orteghi per fare uno scellino 10 cicellini per fare un tallero e spiega anche l'economia in certi versi ma questo lo vedremo quando si parlerà del della sezione del master quindi descritto il davokar forte cardo indaros che è la capitale di ambra e il pendio di carvosti che è il basso piano dove ha sede l'accampamento più grande della delle tribù dei barbari questo è il primo libro non ci sono regole nel primo libro c'è solo ambientazione il secondo che va da poi il secondo libro che va da pagina 73 a pagina 171 è la guida del giocatore vedete già cambia nome libro primo il mondo di simbarum libro secondo diventa guida del giocatore quindi questo è la parte tecnica da pagina 73 a pagina 171 qui solo meccaniche che sono semplicissime però ci sono una serie di cose interessanti cui merita parlare allora intanto l'inizio il giocatore deve scegliere l'obiettivo del personaggio e cosa più importante siccome non non entrerà nel davokar da solo ma entreranno come gruppo per cui hanno pagato la patente all'inizio dovranno anche scrivere l'obiettivo del gruppo quindi obiettivo del personaggio che potrebbe tranquillamente cozzare con l'obiettivo del gruppo questa è la prima cosa veramente ganza obiettivo del personaggio e obiettivo del gruppo e poi scegliere un archetipo fra i tre che sono presenti guerriero mistico e furfante qui si vede che simbarum è stato influenzato consciamente o inconsciamente dal dn di quarta edizione perché la prima cosa che consiglia è che ci sia in ogni gruppo ciascuna di queste tre figure quindi se io faccio un gruppo da tre per tre giocatori perché tutto funzioni perfettamente l'ideale è che ci sia un guerriero un mistico e un furfante questo perché cerca poi di sviartelo il discorso ma si vede che è figlio della costruzione del gruppo del dn di quarta del dn di quarta edizione quindi guerriero mistico il furfante che erano che perché sono personaggi che ciascuno può essere utile in un certo momento quindi si sceglie l'archetipo guerriero mistico e furfante fatto questo si distribuiscono i punti nelle una due tre quattro cinque sei sette e otto tre sei otto nelle otto negli otto attributi allora gli attributi sono astuzia attenzione furtività persuasione precisione rapidità tenacia e vigore questi sono gli attributi allora nella guida del giocatore da due metodi per la per la creazione di questi attributi c'è la possibilità di dare 80 punti da poter distribuire liberamente fra gli attributi fra gli otto attributi in cui ce ne deve essere soltanto uno a 15 nessuno deve essere più alto di 15 nessuno deve essere più basso di 5 questo è il primo metodo 80 punti da distribuire da anche un consiglio che secondo me quello da usare quello da pensarci scegliere già i punteggi assegnati non è che siete obbligati a darli in ordine potete proprio scegliere però dai dice di distribuire invece che 80 punti dare di un 5 un 7 un 9 2 10 un 11 un 13 e un 15 quando avete distribuito i punti in questa maniera vi dà un ulteriore possibilità di personalizzazione potete spostare un punto da una caratteristica e rapporto di uno a uno e modificare i valori tenendo conto che nessun valore può essere superiore al 15 ok quindi questa è la prima e sono i due metodi distribuiti gli attributi si va a decidere la razza di persona del personaggio le razze sono 4 o meglio sono 5 perché una prevede una sottorazza però sono quattro di base e anche qui vi fa vedere la novità di simbarum che abbiamo già visto in nel gioco della weird edizione shadow of the demon lord il fatto è ci siano razze un po particolari c'è la prima razza il changeling il mutaforme per capirsi l'umano e questa prevede una sottorazza fra cui scegliere l'ambriano o il barbaro gli orchi e i goblin gli shadow of the demon lord c'erano in più i nani e gli automi però più o meno poi erano quelle le razze perché appunto questo come shadow of the demon lord prevede appunto un mondo dark fantasy e cerca di modificare di cambiare il tipo di personaggio ciascuna razza a delle abilità a un'abilità che viene regalata non altre può essere scelta può essere scelta ecco la creazione di simbolo ma è bellissima perché da veramente la possibilità di scegliere come volete fare il personaggio quindi dovete scegliere una di queste razze e poi dopo che avete scelto le razze dovete andare a scegliere la classe del personaggio quindi cosa succede che avrete chi ha scelto l'archetipo del guerriero potrà scegliere fra il berserk il cavaliere il comandante il mistico potrà scegliere fra lo stregone quindi provenire dalla tribù per esempio dei barbari o aver studiato la natura lo stregone l'adepto del lordo magica o per esempio il necromante che è un personaggio che a me non piace ma so già che c'è tanta gente che farebbe impazzire il furfante potrebbe essere un brigante ma potrebbe essere un ranger ma potrebbe essere anche un cacciatore di streghe quindi questa è la dopo aver scelto la razza quindi archetipo attributi la razza la professione del personaggio scelta la professione il personaggio che ovviamente regala un'abilità e ha dei prerequisiti per esempio il berserk che dovrà avere rapidità e tenacia o qualcosa del genere ecco personalmente la scelta della professione io l'avrei messa subito dopo la scelta dell'archetipo per renderla immediata perché altrimenti potrebbe avere poteva creare dei poteva creare dei problemi che la gente magari ci cavoli vuole fare guerriero ma non ho dato rapidità e precisione quindi porca miseria devi tornare indietro insomma una cosa abbastanza noiosa fatto questo direbbero quelli bravi si determinano gli attributi derivati quelli che hanno attributi secondari che sono la resistenza la resistenza sono i punti ferita i punti ferita sono dati dal punteggio di vigore se il punteggio di vigore fosse minore di 10 prendete 10 e quelli sono i vostri punti ferita cambieranno pochissimo durante il gioco cambieranno veramente pochissimo quindi è un gioco che anche qui come shadow the demon lord tanto il parallelo è fra questi vi spiegherò anche perché sono la mortalità è medio alta qui ci sono un paio di salvataggi alla dn di quarta edizione ora andremo a vedere c'è la resistenza che è dato al vigore c'è la soglia della resistenza che è il punteggio di vigore diviso 2 arrotondato per difetto allora perché vi dico il punteggio di vigore perché sulla scheda la soglia di resistenza è data dal punto c'è scritto resistenza diviso 2 e questa è una cosa che non mi piace il manuale in certi punti non è per niente chiaro come se non fosse stato riletto quando è stato impaginato perché mi dici che è la resistenza diviso 2 poi vado a cercare da un'altra parte 20 pagine dopo 10 pagine dopo non mi ricordo e si va a leggere che nel caso in cui si calcoli la soglia di resistenza se il vigore fosse meno di 10 non va preso 10 ma va preso il vigore che c'è quindi se avessi preso 5 facciamo 6 avessi preso 6 avrei resistenza 10 perché il mio vigore 6 è inferiore al vigore al figore 10 quindi prendo 10 ma avrei una soglia di resistenza di 3 ed è importante calcolare la soglia di resistenza lo vedremo durante il combattimento poi si calcola la difesa che il punteggio di rapidità meno l'ingombro dell'armatura e il punteggio di corruzione che è la tenacia fratto due questi sono gli attributi secondari fatto questo fatto si vanno a scegliere le abilità usa il termine abilità in realtà è tutto quello che riguarda il personaggio nell'abilità c'è la magia nell'abilità ci sono alcune doti è rimesso tutto insieme sotto la voce abilità e qui vi da anche qui due possibilità o scegliere due abilità tra i livelli novizio adepto e maestro qui vi dice il manuale dice sentitevi liberi ancora volta vi fa vedere che simbarum è totalmente libero siete veramente liberi di creare personaggi diversi potreste avere al tavolo due guerrieri totalmente diversi due range totalmente diversi ed è una cosa questo un grosso plus come direbbero quelli bravi o sono ignorante quindi co plus o più sentitevi liberi di fare due livelli due abilità a livello novizio e uno a livello di adepto e poi c'è la soluzione che io prediligo perché mi piacerebbe far crescere il personaggio scegliere 5 abilità a livello di novizio qui si arriva a un problema qui si arriva un problema allora le meccaniche la meccanica è un dato da 20 il punteggio che deve essere fatto deve essere minore o uguale dell'attributo quindi se ostuzia 12 devo fare un 12 o meno allora esiste una dote un'abilità che si chiama attributo eccezionale che a livello novizio da più uno a livello adepto da più due e così via quindi cosa succede che sia prendo attributo eccezionale in quella dove io ho già 15 di primo il manuale mi dice che io non posso superare 15 cosa succede ma non me lo dice se io prendo attributo eccezionale vado a 16 e se lo prendo come adepto vado già 17 devo tirare sotto ecco è un po creare un problema questa attributo eccezionale quindi io sono sempre per dire sì ai giocatori perché ogni volta che il master dice no qualcosa secondo me è una sconfitta per il master però può dare adito a una serie di personaggi power play per quanto il gioco non sia per i power play però con l'abilità potreste tranquillamente creare un guerriero che ha doti magiche che ha doti magiche perché magari è venuto fuori che è un'autodidatta e quindi ha per un personaggio con guerriero con le doti magiche questa è la creazione del personaggio finisce così veramente veloce ci ho messo più io a spiegarvela che vuoi a capirla sicuramente poi si va al combattimento allora qui simbarum come i giochi moderni il master deve raccontare la storia quindi il master non ti regali non so ora tutti si ora tutti guardano a monte cook nome nera dove il master non ti le dadi o come qui per i giochi italiani alba di cthulhu sinerei che i paesi dei valocchi in cui il master non tira non estrai carte non fa niente ma fanno tutti i giocatori ok prendiamola come buona vi posso dire che a tanti giocatori da fastidio però che il master non tiri mai e che sia tutto nel loro nelle loro mani poi un giorno o l'altro vorrò indagare sul perché comunque allora l'iniziativa è data dalla rapidità il combattimento ancora una volta e fa vedere che è figlio del dn di quarta del dn di quarta edizione perché il combattimento è molto tattico la gri consiglia scon consigliano l'uso della griglia perché ci sono una serie di abilità anche perché adesso vedremo che c'è un'azione particolare che con la griglia è molto chiara senza coltato della mente può creare dei problemi allora l'iniziativa è data dalla rapidità chi ha la rapidità più alta agisce per primo a meno che qualcuno non abbia le armi lunghe o le armi già preparato si gode di un attacco gratuito il colpire è la precisione come soglie modificato dalla difesa del dell'avversario questo è il combattimento si infliggono i danni le armature danno una protezione assorbendo punti ferita però ti riducono la difesa perché ovviamente l'armatura più protegge più ti ingombra nei movimenti ci sono alcune armi che vi possono dire di usare invece la precisione invece la scusate la rapidità invece della precisione a seconda di quanto siano abili le armi e le armi hanno una serie di infliggono i danni normali con i dadi classici però qui si arriva una chicca del gioco che la soglia di resistenza allora se io infliggo danno pari io faccio il danno sottraggo l'armatura la difesa dell'armatura i danni che rimangono sono i punti ferita che io subisco vengono scalati dalla resistenza se però ho inferto un numero di danni pari alla soglia di resistenza del personaggio l'attaccante decide quindi si deciderà sempre il giocatore sia sia attaccato sia sia difesa gli andata male decide cosa succede al suo personaggio e può decidere due cose una il personaggio è spinto indietro e cade a terra due il personaggio resta lì e però l'avversario gli fa un attacco gratuito non è male come cosa la soglia di resistenza perché ce l'hanno anche i mostri quindi il giocatore di volta in volta può decidere ecco perché qui la griglia mi vuole dirlo può essere estremamente utile perché magari lo spingi indietro e butti a terra magari urto un altro fa per la concentrazione a un nemico quindi è veramente una chicca è una chicca che è presente nel combattimento come regola base quando i punti ferita arrivano a zero ecco un'altra cosa che ho apprezzato i punti ferita arrivano a zero ne avrete sempre veramente pochi di punti ferita quando i punti ferita arrivano a zero il personaggio cade a terra privo di sensi da quel momento per ogni round deve tirare un dato da 20 e ci sono una due tre quattro risultati possibili il primo dice tirate un 1 sul d20 il danno era meno grave di quello che succede quello che si pensava il personaggio si rialza con un d4 di punti resistenza in più di in più nuovi e è in piedi e può agire del round dopo con un 1 sul d20 dal 2 a 10 il personaggio rimane in fin di vita il tono dopo deve ritirare da 11 a 19 il personaggio è vicino alla morte vuol dire che se il round dopo tira per tre volte e fa di nuovo il punteggio 11 19 è morto il 20 il personaggio muore però può dire qualche frase anche offese ai compagni che non l'hanno aiutato e così si conclude il manuale la guida del giocatore pagina 172 comincia il terzo libro la guida del gm allora nella guida del gm ci sono alcune parti molto interessanti e alcune parti che mi hanno fatto storcere il naso le parti interessanti e la parte che è dedicata all'ombra e alla corruzione perché la magia corrompe i personaggi la magia corrompe i personaggi la corruzione è il modo che alla natura per ribellarsi alla magia un'alterazione della natura stessa come si manifesta con una corruzione temporanea o permanente corruzione temporanea potrebbe essere una ferita che non viene rimarginata per ci vuole più tempo una corruzione permanente potrebbe essere un marchio del male addosso quando i personaggi finiscono la loro corruzione diventano posso diventare degli abomini quindi gireranno nel tavo car come creature figure drammatiche png eccetera eccetera ecco è spiegata benissimo è spiegata veramente 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 bene quindi questo è un grosso più mi è piaciuto veramente tanto a parte dell'ombra e della corruzione fa vivere veramente il tavo car il master qui adesso si parla di massi il master deve essere bravo a far vivere l'oppressione del tavo car soprattutto del tavo car scuro scuro giusto nel davo car scuro ai personaggi ricordatevi consiglio a tutti i gm anche quelli più bravi di me che ce n'è una marea al giro usate i sensi usate sempre i sensi si entra in una foresta udito olfatto vista alla massima attenzione per i personaggi poi ci sono alcune regole facoltative di questo a vorrei dire che non esiste la regola d'oro qui e questa è una cosa che è piaciuta moltissimo che soprattutto sono speso 60 euro temi devi dar tutte le regole come ho sempre detto allora le regole facoltative ce ne sono una due e tre che sono meravigliose e io consiglio di metterle tutte dentro subito queste tre regole facoltative vanno messe dentro subito perché danno quel quid in più al gioco la prima regola facoltativa è l'uccisione diretta scusate l'uccisione diretta vuol dire se io sono arrivato a zero punti vita zero punti resistenza persi e l'ultimo attacco che mi ha portato a zero punti vita aveva superato la mia soglia di resistenza io non devo più tirare il d20 ma sono morto questa regola è meravigliosa meravigliosa perché sposta il concetto del combattimento evitiamo del combattimento a meno che di non essere sicuri che vada tutto bene o giustriamo lo giochiamo in maniera per adeguata il giocatore si lancia alla dnd contro il mostro con la regola dell'uccisione diretta ci starei un po più attento a qualche punto di vita sono pochi se succede quello io sono capo quindi questa è la prima regola ovviamente è una regola che permette alza moltissimo la mortalità dei personaggi però a questo punto si via che sia in aiuto dei personaggi mettendo questa seconda regola che è ritirare spendendo punti esperienza questa è una cosa che c'era già addirittura se non ricordo male guardate la mia recensione di druid fatta a dicembre duemila mamma mia 2018 in cui mi sembra che già druid avesse una cosa del genere poi ce l'ha vampiri quindi è una regola utilissima ritirare spendendo punti esperienza spendendo un px i personaggi possono ritirare il test che è andato male ovviamente cosa non possono ritirare il test di corruzione e il di 20 test che il test di morte ma tutti gli altri tiri fatevi ritirare questo per cosa succede il giocatore deve decidere se avere un personaggio fortunato spendo px per ritirare o un personaggio esperto non spendo px raggiungo la soglia delle dell'esperienza che mi serve per salire di livello bella questa cosa mi piace molto e secondo me compensa l'uccisione indiretta e la terza regola è quella che si chiama attacchi perfetti e difese maldestre allora dice sostanzialmente come modificare il tiro di dado quindi inserire il colpo critico il colpo maldestro per capirsi se io faccio uno sul diventi in attacco infliggo mi sembra un dato da tre di punti ferita se io faccio un 20 in attacco posso mi espongo il mio avversario mi fa un attacco gratuito però ecco si chiama attacco perfetto e difese maldestre queste tre regole io non le avrei messe come facoltative al mio modesto modo di vedere le avrei messe come regole base perché sono tre regole che secondo me servono per il mood con cui si vuole giocare simbaro poi sempre nella linea del nel libro del gm nel guido del gm ci sono le regole per le campagne quindi c'è i viaggi la durata i viaggi gli spostamenti per il davoca gli incontri che possono essere fatti e poi come avevo detto muove l'economia il pallero ci sono le regole per le tangenti mi ha fatto ridere però è la prima volta che dicono che in un mondo fantasy dark però legato in qualche modo alla realtà puoi pagare per ungere ingranaggi della burocrazia quindi questa è un'altra cosa mi ha fatto sorridere però è interessante arriviamo alla parte brutta del gioco premetto non ho ancora guardato gli altri manuali quindi io mi limito al manuale base si parla degli artefatti allora gli artefatti sono lasciti della civiltà dei simbar all'interno del davocar bene c'è la regola per c'è spiegato come connettersi con gli artefatti c'è spiegato come utilizzare gli artefatti c'è la descrizione di due artefatti stop le cose più importanti del davocar di simbarum scusate del gioco non sono spiegate cioè io sono d'accordo che tu autore mi dai mi dici ci sono questi artefatti ok mi dici che ci sono mi descrivi fai vedere come sono due artefatti ma porca miseria vi ripeto non so se negli altri manuali ci sono è non so se nel manuale del giocatore avanzato in un altro libro di mostri che qualcosa c'è scritto non lo so baso sul manuale sul manuale base cavolo ma mi dici se ci sono gli artefatti mi fa vedere due e non mi metti mezza colonna di regole per creare i miei artefatti cioè ok bene ci posso arrivare perché mi guardo faccio la un esempio di reverse engineering sui due artefatti e cerco di ricavare quelli che sono ma cioè 274 pagine mezza colonna sugli artefatti mettila mezza colonna non mi farà andare in rete a cercare materiale in inglese sugli artefatti mezza colonna scrivila su come fare a creare gli artefatti mi sembra che non ci sia sono quasi sicuro che non ci sia l'ho letto tempo fa il manuale quindi passano quasi sicuro mettici cioè questo è il grosso meno è questo è un grosso meno quindi uno è un manuale scritto bene discorsivo ma a volte come vi ho detto la soglia della resistenza e altre piccole cose devi andare a cercare c'è un refuso in un'abilità che adesso mi sfugge che è sbagliato da sopra a sotto ok e poi c'è ai mi fai questa cosa qui degli artefatti no veramente cioè me l'hai me l'hai smontata così me l'hai smontata grosso meno questa cosa qui degli artefatti non volevo un catalogo post al market e vecchi sanno a cosa mi riferisco di artefatti ma almeno le regole per crearmeli quello sì comunque ottima parte la parte di scritta dedicata alle avventure dove il gm gli ha spiegato come fare a fare l'avventura addirittura come fare a gestire il sandbox perché il tavola potrebbe essere un enorme sandbox spiegato anche questo e poi c'è i mostri ci sono i mostri dove si va da quelli più classici non morti arachnevi a quelli particolari gli abomini toccati dalla corruzione gli umani perché potreste trovare un gruppo di png che ce l'ha con voi gli elfi finalmente gli elfi sono mostri e i troll conclude il manuale un'avventura che si chiama la terra promessa e sopra è importante questa avventura perché per il setting e il modo con cui va giocato simbarum questa avventura è quasi obbligatoria perché fa vedere ai personaggi com'è la vita forte cardo fa vedere personaggi come è la lettera in cui loro alla patente per poter entrare e come vivere il tavo car quindi questa ventura è scritta anche bene mi piace mi è piaciuta veramente interessante allora giudizio finale su simbarum bel gioco ottimo peso medio e per chi ha visto la recensione su shadow the demon lord sa a cosa mi riferisco ottimo peso medio secondo me sono veramente due pesi medi molto interessanti con un'ambientazione simile per certi diversi un dark fantasy quello di là più apocalittico questo più di esplorazione ma col dark di questa foresta opprimente sopra tutti e due con la meccanica del diventi ottimo quindi simbarum è un gioco che io consiglio mi dicono che sono uscite una marea di avventure tipo forse cinque fra avventure e campagne sono usciti due moduli in più che sono le regole aggiuntive dei dei giocatori e un nuovo libro dei mostri se volete se vorrete se la recensione piacerà scrivetelo qua sotto potremmo continuare a parlare di simbarum le illustrazioni sono meravigliose sono strepitose sono una più bella dell'altra anche la mappa del davo car che potete recuperare su pinterest è veramente stupenda e niente veramente un bel gioco non ve l'ho detto durante la durante la chiacchierata comunque iscrivetevi al canale condividete il video mentre like eccetera 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 spero che questa situazione che stiamo vivendo passi quanto prima io cerco di stare a casa il più possibile mi leggo una marea di manuali sono all'ingrasso e basta noi ci vediamo prossimamente per un'altra chiacchierata ciao e alla prossima